Adesso andiamo a fare un'altra consegna come quella che abbiamo fatto lì l'altra sera, perché purtroppo oggi non me la volevano portare, io ce l'ho portata nella porta destra, dolcissima. Grazie a tutti. Ci stiamo a sinistra, voi lì dove lì, campanile. Di giorno un altro passaggio. Grazie. 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 ecco qua vediamo un po' ecco qua stavo sono andato a Badino al canale ci vediamo alla prossima, ciao chiamalo chiamalo ehi piccolino che c'è? dai 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 bisogna andare dentro eh non vede? eh no